Oggi la nonna Luigina non stava tanto bene, aveva un po' di mal di pancia, un po' di mal di testa, era un po' giù di corda. Ad un certo punto della giornata è suonato il campanello e le si sono illuminati gli occhi. Perché? È arrivato un bel pacchettino, adesso voglio vedere che cosa c'è dentro. Questo pacchetto. Un regalo per la Luigina. Un regalo. Allora io intanto ti leggo il bigliettino. Sì. Un piccolo pensiero fatto a mano da una nonna come te. Buon Natale e buone feste. Il nome te lo dico dopo, magari non vuole. Ma questo è tutto... Questo è tutto fatto a mano, questo è tutta plastica per... No, no, questo c'è dentro ancora una roba. Sì, lo so, c'è quello, lo vedo. Allora dammi questo. Aspetta, aspetta. Ma apri con le forbici la plastica. Aspetta, aspetta, c'è dentro due... Mamma mia, quante cose c'è dentro. Quante cose c'è dentro. Questo lo prendo io? Ma quante cosine fatte a mano. Ma quante cosine... Oh, che belle, ma fatte a mano. Ma quante cosine... Sì, questo è tutto imballaggio. Eh? Sei contenta? Sono contentissima. Ma guarda, anche se sono arrivate dopo Natale, fanno sempre piacere i regali. Grazie, grazie. Sono proprio contenta, fatte a mano, ma grazie. I regali fanno sempre piacere. Grazie, un grosso bacione. Grazie, grazie. Grazie.